Allora stiamo andando a fare trekking fra le rovine etrusche, un po' non aprite quella porta, un po' il secondo esorcista, un po' Indiana Jones. Molto, molto. Abbiamo una frusta, ce l'abbiamo? Mandalena non dire cosa da troia subito. Qualsiasi cosa tu dici suona da troia. Buongiorno, di buongiorno, buongiorno. Allora lì è l'entrata, ma mi sa che è chiuso però. Sì, ma tipo Indiana Jones non avrebbe mai accettato chiuso come risposta. No, ma infatti scavalchiamo. Cosa facciamo, Mandalena? Scavalchiamo. Siamo anche. Ragazzi sai cosa facciamo adesso? Voi scavalcate e io faccio il montaggio con breaking the law e con la spree. No, ma che breaking the law? La prova magrezza post vacanza di Natale. Basta passare. Aspetta cosa, perché non si è necessario. Non ci passi? Non ci passi? Non ci passi? Landè stai dalla prora di Natale. Ripi, ripi! No. Questa è la necropoli Dove venivano seppelliti E lassù c'è l'acropoli Perché ovviamente gli etruschi Avevano già capito Giustamente che uno non poteva Buttare i cadaveri nello stesso posto Dove mangiavano E facevano conversazione Perché poi si Prendevano delle malattie atroci Musica 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 Portatemi all'acropoli Musica Siamo finalmente arrivati all'acropoli Musica 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 Grazie a tutti.